Big Mat è di il tutto. Dal 1981, tutto per costruire e ristrutturare casa. Acqua di Fonte Cottorella. Dalla fonte, direttamente a casa tua. Acquistala su www.cottorella.com L'ufficio SRL Buffetti. Tutto per la scuola e l'ufficio. Rivolgiti a noi anche per l'attivazione dello speed. È semplice, comodo e veloce. Igiene e sicurezza nell'ambiente in cui lavori. Scegli Puligen, prodotti e attrezzature per pulizie civili e industriali al tuo servizio. L'attività edilizia libera riguarda tutte quelle lavorazioni che non necessitano di un'autorizzazione o comunicazione all'ufficio comunale. Di solito si tratta di manutenzioni ordinarie, superamento delle barriere architettoniche, arredo urbano, installazioni di impianti fotovoltaici. Esistono poi delle categorie particolari, come le strutture ricettive, che possono mettere in opera o parcheggiare case su ruote, camper o roulotte. Oppure le attività agricole, che possono movimentare i terreni oppure creare dei sistemi di irrigazione. Non sempre l'attività edilizia libera è esente da autorizzazioni. Infatti bisogna tener conto anche dei vincoli sovracomunali, ovvero se esiste un vincolo paesaggistico o strutturale sismico oppure idrogeologico, eccetera, bisogna richiedere le apposite autorizzazioni. In ogni caso, prima di intraprendere qualsiasi attività, è bene sempre farsi consigliare da un tecnico competente. L'ufficio SRL Buffetti, tutto per la scuola e l'ufficio. Rivolgiti a noi anche per l'attivazione dello speed. È semplice, comodo e veloce. Igiene e sicurezza nell'ambiente in cui lavori. Scegli Puligen, prodotti e attrezzature per pulizie civili e industriali al tuo servizio.